Presto da Regione Toscana emanerà un avviso pubblico per un bando innovativo a favore dell'alta formazione e della ricerca in ambito culturale. Nelle immagini vedete la presentazione a Firenze con la vicepresidente Monica Barni. Il bando finanzia attraverso il POR FSE 2014-2020 100 assegni di ricerca per progetti nati dalla collaborazione di università, scuole di alta formazione e enti di ricerca con gli operatori della filiera culturale creativa regionale. Si parla di musei, di biblioteche, anche istituzioni culturali che si occupano di memoria, insomma tutto il vastissimo sistema della cultura della Toscana che insieme alle università e a centri di ricerca ed eventualmente a imprese costruisce una progettualità che ha poi l'obiettivo quello di rendere più aperta l'offerta culturale della nostra regione e quindi più partecipata. I progetti dovranno essere finalizzati alla fruizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla conoscenza e interpretazione delle arti e della cultura. La presentazione del bando a Firenze è stata incentrata in particolare sul ruolo dei musei e delle biblioteche. Il direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, ha dichiarato che oggi per i musei la parola chiave è capacità osmotica. Cioè quella di essere un sistema aperto con l'università, di mettere a disposizione tutti i dati e le catalogazioni attraverso dei sistemi di open data, di innescare dei meccanismi virtuosi di ricerca di finanziamenti e di ricerca di relazioni, soprattutto estere, per far sì che il proprio patrimonio abbia la possibilità di essere studiato dai soggetti non solo italiani ma ai soggetti mondiali. Solo così si innescano meccanismi virtuosi che portano fondi e portano una crescita della conoscenza.